Buongiorno, sono Stefania Boleso, responsabile didattica della Pambianco Academy. Il Master in Digital Strategy ha l'obiettivo di mostrare tutte le opportunità messe a disposizione dal digitale. Grazie ai diversi temi affrontati vogliamo far comprendere ai partecipanti come creare una strategia digitale e quali strumenti utilizzare, tra tutti quelli che compongono il cosiddetto ecosistema digitale, per poter meglio raggiungere i propri obiettivi di business. Vogliamo che i partecipanti comprendano le caratteristiche e le potenzialità dei diversi strumenti, così da decidere se utilizzarli e in che modo, calandoli nella loro realtà aziendale. Anche questo Master, come tutti gli altri, è arricchito da testimonianze di manager d'azienda, professionisti che ogni giorno lavorano su questi temi, lavorano in questo mondo e quindi ne conoscono le sfide e anche le opportunità e che quindi, siamo sicuri, potranno fornirvi degli spunti molto interessanti. Grazie. Grazie.